Grazie per volermi dedicare oggi il vostro tempo. Per me è un po' strano essere qui perché quando mi hanno invitato a tenere questo TED Talk la prima cosa che ho pensato è che cosa c'entro, non ho nulla di così alto da raccontare. Poi mi hanno detto che la parola chiave era rumore e allora ho detto che forse lascio proprio perdere perché cosa mi invento. A quel punto però ho iniziato a riflettere e mi sono chiesto cosa avrei potuto dirvi oggi ripensando alla parola rumore e al significato di quella parola. In quel momento ho capito che l'unica cosa che avrei potuto fare era quella di raccontare la mia storia, l'unica storia che conosco, quella che mi porta qui oggi davanti a voi. Quando ripercorri la tua storia fai sempre un po' un viaggio introspettivo, ripensi a chi sei stato ma lo fai guardandoti con gli occhi di oggi, con la consapevolezza che negli anni hai raggiunto. Quindi è come se ti guardassi per la prima volta. Non so se ci avete provato, fatelo tornate a casa perché è una figata colossale. Io l'ho fatto negli scorsi anni, nel mio percorso di vita e l'ho rifatto nelle scorse settimane, proprio perché oggi volevo essere qui. E lì ho realizzato come per tutta la prima parte della mia vita io abbia intenzionalmente rifiutato il rumore, preferendo sempre il silenzio, il mio di silenzio. Questo sono io, a quattro anni, forse qui seduto da qualche parte, ero chiuso totalmente nella mia timidezza. E sapete, mi rifiutavo spesso di giocare con gli altri bambini. Un po' un bambino atipico, perché quale bambino si rifiuta di giocare quando ha quattro anni? Sapete, sono stato un bambino, un adolescente, cresciuto con un grandissimo senso di inadeguatezza. Ho sempre pensato di non essere sufficientemente alto, sufficientemente estroverso, intelligente o simpatico e tutte quelle robe lì. Ma se ci ripenso oggi, dico, vabbè, non sono poi così speciali. Tutti ci siamo sentiti non abbastanza quando eravamo adolescenti. E spesso quelle insicurezze ce le portiamo ancora oggi, no? Io però ho sempre pensato di non essere abbastanza per poter sognare di fare qualcosa di più. Per poter inseguire un sogno e provare a realizzarlo da solo. Anche se in quel momento non sapevo nemmeno quale fosse il mio sogno, dove volevo andare, che sogno volevo rincorrere. E' probabilmente per questo motivo che inseguivo il silenzio, anche dopo, quando stavo crescendo. Perché quel silenzio mi permetteva di sparire, quasi provando a diventare un po' l'uomo invisibile, no? Quando sei invisibile non devi confrontarti con nessuno, con nessuna sfida. Quindi pensi, non hai problemi. Dopo però realizzi che se continui a nasconderti, poi smettono di guardarti, di sentirti tutti. Anche le persone che ti sono vicine. E per me è stato nel momento in cui non mi sono più fatto vedere o sentire, che mi sono sentito come se non esistessi più. Come se finalmente era lì l'uomo invisibile davanti a me, lo guardavo allo specchio e quell'uomo ero io. Dopo mi hanno spiegato che quella sensazione si chiama depressione. Una parola che fa male. Però arrivato a quel punto, un giorno di otto anni fa, ho deciso di cambiare la mia vita. Di smettere di stare in silenzio e di provare a inseguire le mie intuizioni. Anche se non avevo idea di dove potessero portarmi quelle intuizioni. L'ho fatto senza paura, ma con la consapevolezza che volevo farmi sentire. Anche urlando se fosse stato necessario. Un giorno di otto anni fa, ho deciso di lasciare il lavoro da giornalista che mi frustrava tremendamente per inseguire quella che era una mia intuizione. Cioè quella di provare a cavalcare la rivoluzione dei social media. Lavorando con una ragazza che era già affermata e di successo, ma che stava anche lei lottando contro chi pensava che non fosse abbastanza e che non sarebbe durata nel tempo. Quella ragazza si chiamava Chiara Ferragni. Si chiama ancora oggi Chiara Ferragni, in realtà. L'avevo conosciuta qualche anno prima. Io facevo il giornalista in quel momento. Lei era agli esordi, alle sue prime sfilate. Molto timida, mi ricordo, anch'io molto timido. E le mie colleghe giornaliste del tempo mi consigliarono di non mischiarmi alle blogger. Perché tanto da lì a qualche mese sarebbero sparite. Quindi perché perdere tempo? E soprattutto loro si sentivano anche più cool di chi iniziava questo mestiere in quel momento. E io, sapete cosa ho fatto? Non li ho ascoltate. Ma ho dato retta solo al mio istinto. Che mi diceva che quella ragazza molto gentile, che postava i suoi looks su un blog, fosse una persona di talento e capace di comunicare in un modo rivoluzionario. Un modo che da lì a poco sarebbe stato universalmente riconosciuto e apprezzato. Anche da quelle colleghe giornaliste che mi dicevano di non parlarci troppo. Per questo motivo vi dico, non rischiate di diventare invisibili. Ascoltate il vostro istinto. Anche quando gli altri vi diranno che state sbagliando. Io l'ho fatto. Ed è lì che ho capito come in quel momento volevo scegliere il silenzio. Ma il silenzio degli altri. Io ho deciso di farlo otto anni fa, lanciandomi nel buio perché credevo assolutamente in Chiara e in quello che potevamo fare insieme, grazie alla nostra complementarità che ancora oggi abbiamo. E da quel momento la mia vita è cambiata. Da quel momento insieme abbiamo deciso di fare rumore. Da quel momento abbiamo deciso di spiegare a tutti che la tanto ostracizzata blogger, questo è il suo primo post da The Blonde Salad, in realtà era il simbolo della giovane imprenditrice made in Italy e che lei stava costruendo un modo inedito di fare comunicazione e impresa. Insieme abbiamo messo alla porta chi in quel momento non credeva in noi e abbiamo portato due società che avevano cinque dipendenti a diventare due aziende che oggi impiegano quasi 60 persone che insieme con il loro lavoro nel 2022 hanno generato un giro d'affari di 66 milioni di euro. Insieme abbiamo provato a trasformare un'idea abbozzata su questo pdf che conservo tipo cimelio della vita, in un documentario che era Ferranian Post-it. Ricordo ancora quando andavo in giro con quel pdf a dire volevamo fare un documentario e non ci credevo neanch'io e poi è successo. Un documentario che poi abbiamo autoprodotto insieme a Ricinema e che racconta la storia della rivoluzione dei social media esattamente nel momento in cui noi stavamo vivendo quella rivoluzione. Un documentario che dopo un lungo iter è stato ammesso alla settantasiesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Quando l'ho saputo era in vacanza, mi ricordo era agosto, non ci credevo neanch'io perché era impossibile. Un documentario che è andato nelle sale e ha venduto 160.000 biglietti in soli tre giorni, battendo il record di spettatori di sempre per un film-evento nella storia del cinema italiano. Un risultato che a quel punto ci ha fatto pensare vabbè dai allora forse qualcuno che ci vuole ascoltare c'è, quindi forse abbiamo fatto bene a fare rumore. Ed è sicuramente un rumore che è restato nelle mie orecchie e resta ancora anche nel mio cuore. E questo rumore voglio farvelo ascoltare. I love you guys. Ciao. Ciao Diana. A questo punto qualcuno di voi oggi potrebbe dirmi, ma mo? Quindi? L'applauso l'abbiamo già fatto, bravo, ok. Però io vi ringrazio del vostro applauso, ma non sono qui per questo, per gli applausi, per i bravi e le pacche sulle spalle. Ma oggi sono qui per provare a ricordare ad ognuno di voi che è giusto avere un sogno e che è ancora più giusto avere una voce e farla sentire quella voce. Quella voce dovete farla sentire e dovete ascoltare cosa dicono gli altri per poter far sentire anche la vostra voce. E non abbiate paura qual è il punto emotivo dal quale state partendo e non avete paura, non avrete paura di qual è il luogo geografico dal quale state partendo. Io sono partito da questo punto emotivo, sempre io, a quattro anni, timido, non parlavo con nessuno, avevo quasi paura. Io sono partito da questo luogo geografico, venivo sempre qui al cinema. Venivo sempre qui al cinema d'estate e mi sedevo sul prato qui di fuori con la mia amica Alessia che è seduta qui da qualche parte. E sapete, essere proprio qui dove questa storia è iniziata è una incredibile chiusura di un cerchio. E non è una coincidenza se voi siete qui a fare parte di questa chiusura. Perché questa storia possa essere lo spunto per scrivere nuove storie, le vostre storie. Questa è la storia del mio silenzio che si è voluto trasformare in rumore per inseguire l'istinto e scoprire quale fosse il mio talento in complementarità con quello di Chiara Ferragni. Questa è la storia di due voci, anzi ormai 60 voci, unite per farsi forza, perché insieme si è sempre più forti. Questo è il percorso di due ragazzi arrivati a Milano dalla provincia senza conoscere nessuno e senza sapere nemmeno da dove cominciare. Questo percorso ci insegna che se vuoi puoi farlo anche tu. E questa non è retorica, perché oggi qui la mia storia racconta proprio questo. Questa storia, la storia di quel bambino di quattro anni chiuso in se stesso, la dedico a chi sentendosi inadeguato sceglie il silenzio, a patto però che trovi la voce per gridare al mondo chi è veramente e chi vuole diventare. Questa storia, la mia storia di quel bambino di quattro anni, voglio dedicarla a tutti voi che oggi in silenzio mi avete ascoltato, a patto che usciti di qui vi ricordiate di non rinunciare a essere voi stessi, di non rinunciare a farvi ascoltare anche se dovrete fare rumore. Grazie. Grazie. Grazie.